Salve a tutti, ben ritrovati. Siamo giunti all'ultimo appuntamento insieme a Donatien, che vado subito a salutare. Allora Donatien, riassumiamo un po' di quello di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato ovviamente del tuo libro, che è uscito pochissimo tempo fa e che hai presentato oggi qui, presenterai in altre occasioni. Abbiamo parlato quindi del contenuto di questo libro, che riguarda la tua ricerca intorno allo spirituale, alla metafisica e della conoscenza interiore attraverso l'arte. Diciamo al pubblico dove questo libro si può acquistare, è tranquillamente acquistabile tramite il tuo sito, che è poi il sito dove si possono comprare anche le tue opere. Sì, praticamente il libro è acquistabile sul mio sito personale, che è donatienq.com. Donatienq.com. Q sa per quartieri. Sì, esatto. Oppure è trovabile su Amazon, perché è pubblicato, è trovabile sulla... E il libro è Cromologos di Donatien Giuseppe Quartieri. Esatto. La casa editrice, la Tana del Bianconiglio. Esatto, anche sul sito della Tana del Bianconiglio si trova... Per divertirmi, insomma, per conoscere, approfondire dei temi assolutamente interessanti riguardo all'arte, alla storia dell'arte, riguardo dalla ricerca kandischiana, ma nello stesso tempo per passare un po' di tempo e divertirvi con questo test e farlo anche voi, magari conoscere il proprio io-in interiore. Cos'è l'io-in? Beh, dovevo dare un nome a questo inconscio... È quello che kandisi chiama anima, no? Esatto. Siccome non mi stava bene questo concetto di anima, perché è come il concetto di Dio, è troppo legato alla religione, quindi troppo condizionante rispetto all'arte, ecco che ho preferito definirlo io-in, cioè l'io interiore, e quindi che è definito alla persona stessa, cioè al me stesso, giusto? Sì, sì. Non angelo, anima, spirito, proprio io, io esisto, quindi nel momento in cui esisto, penso e ci sono, ho anche questa parte di me che è piena di contenuti, di sentimenti, di emozioni, che in realtà fa parte di me come doppia personalità. Ok. Tu, Donatiana, hai detto, io ritengo gli ultimi cento anni della storia dell'arte, questi, quelli più rivoluzionari, quelli più importanti. È sempre legato all'avanzamento della ricerca kandischiana, questa tua definizione, questa tua affermazione? Allora, diciamo che Kandinsky ha aperto la porta, anche se, se andiamo a ben vedere nel tempo, prima ancora dell'impressionismo, c'è un Turner che è già uno che sconvolge praticamente l'arte con le sue tipologie di espressione. Quindi è stato un secolo, ma già partendo con l'Ottocento. Un secolo denso di rivoluzione. Sì, sì, che poi la declinazione ci ha portato a quella che è oggi l'arte contemporanea. Senti, per quanto riguarda invece la ricerca kandischiana, prima che arrivassi tu, che ti definisci un po' il vero erede di questa, diciamo, di questa ricerca, no? Come e a che punto era, come era trattata l'evoluzione, l'innovazione del pensiero kandischiano? Come veniva affrontato l'astrattismo e quindi anche il pensiero di Kandinsky dagli artisti e dalla teoria dell'arte? Allora, diciamo che quando Kandinsky promuove questo pensiero e soprattutto lo sviluppa nel Bauhaus, dove lì ha conosciuto Itten e dove comunque anche Paul Klee ne è stato un promotore, nasce proprio in un momento in cui per sociale, per condizioni, per rivoluzione, per fermento, giusto? È il momento del futurismo, è il momento del cubismo, è il momento di tante cose che stanno cominciando a sconvolgere un po' il mondo dell'arte, per cui diciamo che Kandinsky in quel momento, come altri, vuole dare forma a questo percorso, vuole dare forma al prossimo futuro e quindi lui lo definisce in questa maniera abolendo quella che è la raffigurazione e portando il tutto sulla pura espressione pittorica di forme e colore. E quindi ovviamente in quel momento c'è questo seguito, perché di fatto le persone ci tengono a valutare, a verificare, a fare un passaggio al di là. Poi però cosa succede? Dopo gli anni 50 e secondo me dopo Rothko, The Style e tutta questa gente, ha cominciato il declino, quindi come dico nel libro, secondo me dopo l'astrattismo prende più una piega decorativa e ovviamente questa decorazione fa perdere quelli che erano i veri contenuti dell'arte astratta e del colore. E invece la ricerca kandinskyana ad oggi appare rivalutata, messa da parte, superata? Come dice la postfazione del suo libro, la Pontigia lo dice bene, per la gente è quello, il luogo delle cose che sono state, quindi kandinsky è stato così e quindi bene, è stato il G, è stato il suo tempo. Kandinsky stesso dice ci sarà qualcuno che farà meglio dopo di me? Spero di essere io. Credi di essere tu? Io credo di essere io, sicuramente. Dove? È presuntuoso, però non credo agli artisti che non riescono a definirsi facendo i falsi modesti, quindi un artista falso modesto non mi ha mai convinto, quindi se è un artista, artista è mostrarsi, mostrarsi vuol dire essere, giusto? C'è un po' di egocentrismo nell'artista. Certo, ma è normale, è una cosa normale. Certo, la tua ricerca cosa propone di diverso, di più, di innovativo, e cosa invece mette da parte, cosa abbandona rispetto al pensiero kandischiano? Che evoluzione, che scarto compie? Allora, innanzitutto rispetto al pensiero kandischiano, Chromo Logos fa più un approfondimento di quello che è l'inconscio personale sotto il profilo psicologico e psicoanalitico, e quindi l'approccio verso il colore e l'espressione dal nostro io in essere io, mentre nel pensiero kandischiano è l'espressione attraverso il colore, attraverso un io spirituale, un io che ha bisogno di un ideale religioso, mistico e tutto quanto, mentre nel Chromo Logos questo ideale religioso, mistico non c'è, ma esiste questo ideale della ricerca di sé. Quindi diciamo che la tua ricerca propone più una base razionale, c'è un'evoluzione noto, un'evoluzione qualitativa, nel senso che se kandischi mira, affonda tutto sulla spiritualità, la metafisica, che non è per forza la religione sia chiaro, ma c'è tanto di spirituale, di astratto appunto, intangibile. La tua ricerca invece, grazie anche all'avanzamento degli studi del nostro tempo, degli studi psicoanalitici in merito anche all'arte, la tua ricerca invece ha basi più razionali, più scientifiche. Razionali, tra virgolette. Razionali, tra virgolette, nel senso che... Meno spirituali, meno astratte. Esatto, esatto, in questo senso qua, sì, di fatto sembra nella descrizione molto complicata, cioè perché uno dice, madonna, cos'è questo Chromo Logos? Ma di fatto, nell'atto pratico, è il semplice gesto di un pennello di tre colori, come partenza, una tela bianca, un foglio bianco e io estendo il colore. Come? Come vuoi? Ma in che maniera? Come vuoi? Quali colori? Quelli che vuoi? Cioè, è semplice. E il risultato di questo come vuoi? Cos'è? Giustamente, il come vuoi, non essendoci strutturazione, se io dovessi dire a una persona, va, fammi un paesaggio, allora la persona non mi dice, ah, adesso comincio a fare le montagnette, il campo, il ruscello, l'alberello, c'è già un condizionamento figurativo nella persona, ma dire a una persona su un foglio bianco, metti tre macchi di colore, la persona si trova spesa come tre macchi, tre macchi. La razionalità è sconvolta, perché non trova riferimenti. Posso chiederti a livello contenutistico, quindi, di cosa parlano i tuoi quadri, o più in generale, quelli che si... Allora, nel caso delle mie opere, il messaggio è molto semplice. Io intendo con la mia opera comunicare, e quindi col mio inconscio, comunicare con l'inconscio di chi guarda l'opera e trovare punti di incontro e di dialogo con il proprio inconscio. A me non interessa, come stiamo facendo io e te, di parlare a livello razionale, ve la dire, tu mi fai domande, ti rispondi, ti spiego, tutto quanto. Questa è una cosa che è necessaria nel nostro vivere normale e di sociale. Ma nel momento artistico lo si può abbandonare? Per me, sì. Praticamente, a me interessa che la mia opera, il mio inconscio, parli al tuo inconscio attraverso la mia opera. Anche se non sappiamo né io né te perché, ma troviamo punti di incontro. Certo, certo. Torniamo all'astrattismo, che è stato, diciamo, come giustamente hai notato tu, è stato negli ultimi secoli, negli ultimi tempi, nell'ultimo secolo, si è trasformato, è possibile, in mera decorazione, in mera decorazione di interne, insomma. So bene a cosa ti riferisci. Com'è possibile, da artista, sto parlando, non teorico dell'arte, com'è possibile reinventare l'astrattismo? Da quale punto di partenza? Ah, guarda, le cose più difficili sono le più semplici. Io ho sempre detto che è difficile fare il semplice e il facile. Quindi la reinvenzione, se reinvenzione c'è, il rinnovamento, se rinnovamento c'è, deve partire dalla semplicità. Infatti, nella copertina del libro si vedono proprio i quattro colori rappresentati, giallo, rosso e blu, che praticamente sono semplici, sono colorazioni pure e basta. Quindi sono convinto che il puro tratto, e lì mi viene in mente il blue klein, cioè è un blu, è semplice. Però in realtà il blue klein ha una sua profondità, ha un suo discorso, ha un suo messaggio, un suo interiore. Quindi il tutto parte dal semplice, dalla cosa elementare, non troppo complicata. L'artista è colui che detiene un po' la responsabilità di questa comunicazione. Certo. Poi alla fine. Però allo stesso tempo, e tu lo dici anche nel tuo libro, è quello che permette il dialogo non solo con la propria interiorità, quindi l'artista è artefice del dialogo che avviene tra sé e sé, brava, tra l'osservatore e l'osservatore, quindi tra lui e lui, tra il suo in e quello dell'osservatore, e allo stesso tempo è artefice di una comunicazione che avviene a livello sociale e collettivo. Esatto, è così, perfetto. E quindi è un sacerdote. Complimenti, vedo che hai capito bene il libro, hai capito alla perfezione. È proprio così come dici tu. E quindi si può dire che non solo ha una bella responsabilità in questo, ma nello stesso tempo si ritorna un po' ad una visione artistica un po' primitiva, un po' rituale, tribale, dove il fatto artistico è un fatto rituale, appunto, torno a dire, dove il fatto artistico è un'aggregazione sociale, un riconoscersi come parte integrante, identità e parte integrante di una società, perché lo scopo della comunicazione poi è quello, no? Il concetto è quello, perfetto. È così. In effetti lo scopo è quello. Cioè l'arte deve servire, tra virgolette il servire, per quelli che chiamiamo, abbiamo l'abitudine di chiamare scopi nobili, giusto? Sì. E lo scopo nobile, intrinseco dell'arte, dovrebbe essere quello di aggregazione, cambiamento, spunto sociale, rinnovamento, ma sempre nel vivere quotidiano. Ecco perché oggi l'arte, che è comunque usata anche in dimostrazioni scioccanti, giusto? È fatta proprio per smuovere, dialogare, cambiare, giusto? E quindi è giusto che sia così, è giusto che sia così. L'arte non è decorazione. L'arte è profondità, è pensiero, è movimento sociale, cambiamento, rinnovamento, è tutto questo. È per quello che non si può metterla ad un gradino superiore. Che non vuol dire, Donatien, che non vuol dire che l'arte non è solo decorazione, non vuol dire che l'arte mette da parte le qualità estetiche. Assolutamente no. Sono importanti. Però vuol dire che l'estetica, e qui ritorniamo ad un discorso sull'estetica dell'arte che avevamo affrontato tu e io prima, appunto di conoscerci in questo contesto, vuol dire che l'arte sfrutta delle qualità estetiche che comunque hanno un fondamento psicologico anche, delle qualità estetiche che sono assimilabili a delle qualità espressive che comunque riguardano un'emozione, un'espressione, un sentimento, una necessità di comunicazione. L'ultima cosa, e chiudo qui, dove, a che punto è la tua ricerca, dove speri di arrivare, come credi di oltrepassarla, di superarla o continuare? Adesso che il libro è un po' il riassunto di questo pensiero, di questi studi degli ultimi vent'anni, il prossimo step è quello giustamente di creare questi atelier cromologos, come dico nel libro, aperti a tutte le persone, per cui in questi atelier cromologos inizia la persona a fare questo approccio al dialogo attraverso la metodologia che è spesso nel libro. Quindi diciamo che la ricerca c'è, è ad un punto avanzato, adesso aspetta a te e a chi ti segue diffonderla per far sì che il cromologos diventi un movimento, un metodo e un aiuto per decodificare l'arte conosciuta da tutti. Io vi ricordo ancora cromologos che potete acquistare sul sito di Donatien o su Amazon, su qualunque portale che mette in vendita i libri. Ti saluto e ti ringrazio per essere stato qui. Grazie a te. Saluto il nostro pubblico a casa e mi raccomando la prossima settimana con un artista nuovo. Ciao a tutti.